Ben trovati e grazie per la linea. La scorsa settimana abbiamo presentato il nostro mondo social attraverso tutte le pagine che il nostro ufficio vi mette a disposizione, cominciando naturalmente da quella della nostra emittente televisiva Padre Pio TV che è presente su Facebook, su YouTube, su Instagram e su TikTok e naturalmente anche su Twitter e poi anche le pagine relative al convento santuario sia per quanto riguarda Facebook e Instagram e naturalmente anche le pagine di voce di Padre Pio sia in lingua inglese che in lingua italiana. Oggi andremo a vedere nel dettaglio quello che le nostre pagine vi offrono soprattutto per quanto riguarda la preghiera. Cominciamo subito la mattina proprio come la nostra tv a trasmettere attraverso la pagina convento santuario Padre Pio la celebrazione eucaristica delle 7 e 30. La celebrazione invece delle 11 e 30 è trasmessa sulla pagina Padre Pio TV. Nel pomeriggio è il canale YouTube ad ospitare sia il Santo Rosario che la celebrazione eucaristica e invece gli appuntamenti serali, quelli delle 20 e 45, sono trasmessi sulla pagina YouTube e sulla pagina di Padre Pio TV, tranne il giovedì sera quando trasmettiamo l'adorazione eucaristica nella pagina accoglienza giovani Padre Pio. Sabato scorso si è concluso invece l'appuntamento con la fiaccolata che naturalmente rivivremo già a partire da aprile dell'anno prossimo, aprile 2023. Un altro modo per essere presenti ai devoti di Padre Pio, ai nostri telespettatori e a tutti coloro che hanno bisogno di informazioni è anche il numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione. Ormai sono 2000 le persone, i devoti, i figli spirituali di Padre Pio che attraverso questo numero riescono ad avere informazioni sia relative al palinzesto ma soprattutto tutte le indicazioni, le novità, gli appuntamenti del nostro santuario. Oggi ci vogliamo soffermare su un appuntamento che vedrà protagonista proprio la famiglia francescana in questa giornata con l'udienza privata con il Santo Padre. Proprio oggi 31 ottobre c'è l'udienza con il Santo Padre del coordinamento ecclesiale delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Rieti, Arezzo e di tutti i rappresentanti delle famiglie francescane del primo, secondo e terzo ordine in occasione dei centenari francescani. Il primo appuntamento sarà il 29 novembre con il ricordo dell'approvazione della regola. Tutto il mondo dei francescani si unisce quest'oggi al coordinamento insieme con il Santo Padre e naturalmente tutti i francescani presenti nel mondo dove si continuano a portare i valori quelli che erano di San Francesco della pace e della accoglienza. Grazie per averci seguito, appuntamento a venerdì.